Sono a rete solamente i primi tre, staccano praticamente il due, non c'è stacco, con Owens Club che sopravanza online Spide Mac, quindi Olivia Del Sile, Oakland Wise, Orchidea di Mar, in coda, Orninoff, si invocca la prima curva con Owens Club che gradatamente supera online Spide Mac, tra i 17 lo strappo, terza Olivia, ha trovato l'accordo anche Oakland Wise, si succede raramente, quarto, quinto, Orchidea di Mar, sesta, Orninoff, 300 di gara e fila indiana, d'altronde si stanno allineati solamente in due e mezzo, per cui così è, 28,9 i 400, Owens Club 1,5 avanti online Spide Mac, quindi Olivia Del Sile va di fuori, Oakland Wise che è infilato da Orchidea di Mar, i 600 di Owens Club si completano in 43,5, 29,9 dopo lo strappo, Oakland Wise Nei confronti di online Spide Mac e di Olivia Del Sile, metà gara in 58,5, 29,6, questi 400 metri con Oakland Wise che aggancia online Spide Mac e prova a sopravanzarla per portarsi più vicino a Owens Club, a 6,50 dal traguardo, Owens Club passa un primo chilometro in 1,12,4, 28,9 dal palo metà all'opposto, online Spide Mac di dentro, contiene per adesso Oakland Wise, quindi Olivia Del Sile e gli altri un po' più indietro, invocco dell'ultima curva, con Owens Club che continua a fare buona velocità, un paletto in 13,6, 1,26,4 per i 1,2, Oakland Wise sta invece sopravanzando online Spide Mac e quindi Olivia Del Sile sbaglia, Oakland Wise mentre Owens Club ha sempre una cinquantina di metri di vantaggio, l'altri lottano per le piazze, la retta d'arrivo per Owens Club in netta, chiara e totale evidenza, un rientro con i fiocchi d'altronde, bisognava fare dell'andatura, Owens Club continua così e viene a vincere bene bene, un ottimo rientro, mentre Line Spide Mac tiene Orninoff, 1,54,8 il totale, vuol dire 1,11,8, la pista è veloce ma Owens Club ha volato, 28,9, 29,6, 28,28,3, questo dice il tabellone, 56 ultimi 8, 1,54,8, 1,11,8, Owens Club, Pietro Gubellini, Harry Lantanen, arrivamento del 7, 1,43